Cosa c'è? Quale mi metto? Questa? O questo? Questa, è deliziosa. E perché non te la provi? Sta meglio a te che a me. Tienila. Ma no. Sai, la storia del pescicano era una balla. Una balla? Sì. E perché così? Ma adesso non ci pensare. Chiuso. Io non voglio sapere perché fai queste cose. Sandro, immagina. Ti è servito almeno? Andiamo, dai. Sì. Sì. Grazie a tutti